Lancio lungo in direzione di Casagrande che spizza di testa, poi Scimone fa proseguire, attenzione perché scopertissimo il Cesena, cross in mezzo, Pessolani stop, la gira per Meconi che fa sedere Beliai e poi appoggia a porta vuota, 1-1 del Genoa, bellissima azione. Rincorre il pallone Pessolani, può andare all'1 contro 1 con Paterlini, se la sposta all'11, entra in area, viene atterrato e è calcio di rigore, rigore per il Genoa, fallo di Paterlini su Pessolani, fischia l'arbitro, parte Pessolani col destro, intuisce Pellino ma non ci può arrivare, raddoppio del Genoa al dodicesimo del secondo tempo. Meconi, tenta il break, parte, palla al piede, il terzino rosso-blu, la tocca per Pessolani, c'è uno scontro con Manzo, l'arbitro però fa proseguire per il vantaggio, Pessolani, Pessolani, non trova la porta col destro a giro. Parte Pessolani, che spiazza Razumejevs, il Genoa per la terza volta, riacciuffa la partita, 3-3, che spettacolo al Begato. Pischia l'arbitro, parte Pessolani, paradigna e palla nell'angolo, vantaggio del Genoa con il quinto gol nelle ultime 5 partite di Pessolani. Bosia la tocca per Lico che chiude il triangolo con il numero 2, lancia in direzione di Tassone che è più veloce, li immagini, riesce ad allungare per Pessolani. Pessolani, non sbaglia davanti a Vannucchi, raddoppio dei rosso-blu, sempre, solo, con il proprio numero 9, 2-0. Di nuovo Pessolani contro Vannucchi. Va Pessolani, rallenta e il risultato è lo stesso. Tripletta del numero 9, che fa 9 in campionato. Mattioli alza la testa e va da Coveri, che aggancia il pallone, lo protegge, riesce anche a girarsi. Poi è circondato da maglie blu cerchiate, scarica Gabellini, che trova il gol. Finalmente sblocca la partita al Cesena, con merito, con voglia, 1-0, a un quarto d'ora dalla fine. Castori con la punta riesce a toccare per Giovannini, che parte palla al piede, si libera Coveri. Il pallone per lui, all'uno contro uno con Mazzarello, se la sposta e calcia. Zorzi in angolo, protegge palla Elia, poi scarica da Comuzzo, che alza la testa, torna però da Tognetti. Pressione di Giovannini, Tognetti rischia, perde palla, cross in mezzo. E Coveri la spinge dentro, vantaggio del Cesena, al quarto d'ora, sul regalo di Tognetti. Il Cesena che prova ad impostare l'azione, con Castori che riceve palla, sulla tre quarti avanza dentro il pallone per Coveri, che calcia di prima intenzione, ma scacchetti con una super parata, gli dice no. Recupera un buon pallone qui il Cesena. E allora Giovannini, il suggerimento per Coveri, che punta l'avversario nell'un contro uno. Saltato Corradini! E poi con un gol incredibile, riapre la partita. Sassuolo due, Cesena uno. Valentini, alza lo sguardo e si affida al numero dieci. Che tenta, suggerimento per Coveri! La ribaltata al Cesena! 3 a 2, Coveri su assist. Magnifico di Giovannini!